L'installazione di centraline per il rilevamento della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico è la richiesta avanzata dal Movimento Cittadini per Roma Capitale a seguito della messa in funzione del tritovagliatore nella sede Ama in Dragona. Concentrazioni di sostanze inquinanti troppo elevate, scrive il Movimento, sono tra le principali cause dell'aumento di incidenza dei tumori alle vie respiratorie, al fine di verificare se esistono condizioni di inquinamento atmosferico dovuto al trattamento dei rifiuti e acustico causato dai mezzi di trasporto, si chiede di sollecitare l'ARPA affinché installi delle centraline di rilevamento nelle zone adiecenti il sito del lama e lungo il percorso dei mezzi pesanti. La richiesta è stata inoltrata all'assessore all'ambiente del decimo municipio Alessandro Ieva e l'associazione si appella all'articolo 32 della Costituzione italiana che sancisce la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività.